Il libero è Fresi, i difensori sono Colonnese, West e Zanetti, i centrocampisti Simeone, Gioca Eppe, Vincere, Zeli e Stoddabergoli. Per quanto riguarda la Lazio, sistemazione a raccoglimento. Partiti in questo istante. Riesce comunque in qualche modo Vincere a dare a Ronaldo sul quale c'è l'intervento di Nesta, uno dei duelli più attesi. Ronaldo, di destro alto, Simeone, Zanetti, sulla sua ala a cercare Ronaldo, Ronaldo è Nesta, Ronaldo anticipa Nesta e tre gare di rigore, lo chiude Negro. Grande numero del brasiliano che ha beffato Nesta, si è già disintegnato molto bene in un paio di circostanza. Ronaldo con una macchina, Gioca Eppe, combinano i due, sullo stretto, bellissima la combinazione, Gioca Eppe, Ronaldo con un seguito. Ronaldo, a Ronaldo, Ronaldo, Simeone, avversario. Gioca Eppe, giù, giù, è Nesta, Gioca Eppe. Ragone tocca fuori, vinta, palla per Ronaldo, destro, tra mezza gravorosa. Tiro di Ronaldo. Vedete la finca di Giorca Eppe, a finire Ronaldo? Ronaldo, rimette, Ronaldo, girupa il pallone, contro piole per l'Inter. scatta sulla destra Zavorano cento vinter palla solo Ronaldo ripallo non è poi è colombese quindi è Ronaldo due su di lui destro di Ronaldo cambia gioco ma l'ha fatto tutto avanzato produce pure il suo sforzo la l'iniziativa di Ronaldo che viene fermato irregolarmente ci saranno sanzioni vediamo l'artellino l'uomo dell'interno giamenti Ronaldo la Ronaldo la donna con un primo però è l'antissimo prima pallone attenzione Ronaldo applicato in posizione regolare attenzione Ronaldo scatta anche Markegiani che viene dentro il 3-0 ha avuto la sensazione che potesse trattarsi in posizione di buon gioco riveliamo gol compravviato per non fissare che Ronaldo sia scattato in posizione irregolare vediamo siamo al 25 del secondo tempo risultato e vedete che Ronaldo probabilmente era in posizione irregolare la mia squadra è un'unica è un'unica che ha visto un'unica che ha visto è un'unica c'è un'unica gladiatorio invece Simeone è con la meccanica c'è un'unica in posizione che è visperata RONALDO RONALDO CHI E' NOTICIPATO DA ZANETTI RONALDO DA ZANETTI CHOCHINO DI RONALDO DI RONALDO CI CI BELO STILE DI RONALDO DI RONALDO QUALLE CENETERRETO ATTENZIONE DI ALMEIDO bella di tutto questo episodio non edificante è che il fuoco nazionale Zanetti e ora vediamo come c'è la cattore della partita Ronaldo Ciao